Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al programma Agora su Rai3, è intervenuto parlando del coronavirus e si è soffermato a parlare dei focolai di Mondragone e Bologna. Non c'è preoccupazione perché è tutto ampiamente atteso. Entrambi i focolai, ha spiegato, sono stati identificati immediatamente e circoscritti, quindi il sistema messo in atto tiene. È inevitabile, ha aggiunto, che ci siano focolai in giro per l'Italia e per l'Europa. E ha spiegato che l'epidemia si sta comportando come era stato ipotizzato e come si comportò la spagnola, che andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata. Ranieri Guerra, rispetto alla nuova categoria dei debolmente positivi, ha precisato, non entro nella classificazione e definizione artificiose che alcuni colleghi in segni di varie discipline possono fare. Guardo i fatti e i fatti dicono che il genoma del virus è ancora lo stesso e i fatti dicono che l'andamento di un'epidemia come questa è ampiamente prevista e prevedibile. C'è una discesa che coincide con l'estate. È vero, ha concluso Guerra, che le terapie intensive si sono svuotate, ma si sono svuotate come previsto che accadesse e non vogliamo, si riempiano di nuovo in autunno. Tutte le precauzioni che stiamo prendendo hanno l'obiettivo di circoscrivere la circolazione del virus quando questa riprenderà.